La sinistra di Ellis Klein mai così male da giugno, il quadro nero dei consensi per l'opposizione emerge dall'ultima supermedia di Agi, Yowtrend Se il partito di Giorgia Meloni, fratelli d'Italia, dimostra di essere sempre in ottima salute, lo stesso non può dirsi delle forze politiche di sinistra, con una sola eccezione FD, in particolare, si conferma primo partito col 29,6% e un incremento dello 0,2% rispetto alla rilevazione di due settimane fa Il PD, invece, scende sotto il 23%, dopo aver perso lo 0,4%, è ora al 22,8%.Al terzo posto il Movimento 5 Stelle di Giuseppe Conte, unica forza di opposizione a crescere nelle ultime due settimane I grillini hanno guadagnato lo 0,6% attestandosi adesso 11,5% A seguire ci sono Forza Italia di Antonio Tajani al 9,2% e un calo dello 0,1% La Lega di Matteo Salvini 8,4% Le Calbanesi e un calo dello 0,1% L'Alleanza Verdi, sinistra stabile, al 6,4% In fondo alla classifica, invece, troviamo azione di Carlo Calenda che perde lo 0,4% calando al 2,9%, Italia Viva di Matteo Renzi che perde lo 0,2% e scende al 2,3% Più Europa stabile 1,8% le calbanesi, e noi moderati che guadagna lo 0,1% salendo 1% Per quanto riguarda le coalizioni, il centro-destra è al 48,2% con un più 0,1%, mentre il centro-sinistra è al 31% con un meno 0,5% La supermedia mette in evidenza un dato importante, la coalizione guidata da Sclene e composta da PD, AVS e più Europa fa segnare il suo valore minimo dalle europee di giugno Grazie